Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo gioco delle armi con i follower del sito viola Questa volta ci sarà una piccola differenza ovvero che saremo tutti in prima persona quindi fortnite in prima persona Tra poco scoprirete come sarà ma prima di cominciare pollicione all'insù per supportare questi video e saluto Lino che ovviamente è l'unico tra tutti che mi sente Ciao ragazzi Che tra l'altro è l'unico che mi permette di comunicare con i ragazzi della lobby che ovviamente tra poco qualcuno starterà la partita senza il mio permesso Aspetta eh Fra 3 2 1 Non è successo ragazzi vuol dire state migliorando bravi avvierò io la partita per la prima volta incredibile Incredibile questo video devo caricarlo solo per questo Vai partiamo Oh cazzo Uh prima kill GG Dove sei lì no? Ah ecco ti va Ecco ti va Provatevole Adesso tra gli arco però Eh mannaio 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 dai 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 andiamo andiamo Raga per favore non mi focussate Gentilmente Guarda un'altra guarda che kill è rubata quella mamma mia Ma guarda quelli sono vicini Cioè quelli stavano vicini fra uno di fianco all'altro sparavano a me Pazzesco Sì quando ci piuco la deagle io Ho fatto un rodigul Oh lì non parla però cioè nel senso di qualcosa Vabbè dai ragazzi però basta stillare le kill Bravo bravo tizio mascherato così di Bravissimo tizio mascherato Oh sai qual è il problema ecco che io c'ho la scimmia e vale la tua Eh E non furtano me come furtano gen Ci senti cerco Oh no Porco due pasqualiti stavo sparata dietro da tre ore Oh bravissimo anche Harley Quinn Diggi che ti voglio bene Allora hai detto Mirko che ti vuole bene Pfff mannaia mannaia Sì vabbè Vabbè dai Ma mi ha ficcato il fucile in gola Gastroscopia col pompa Non è gastroscopia con pompa eh Perché quella sarebbe Sarebbe il top Sai che questa non si carica Quante kill stai? Tizio mascherato dove stai? Fermati tizio Eh mo c'ho l'arpione fra C'ho tredici kill Con l'arpione mo la devo stilla Stillata? Eh è morto per lui Però non mi ha dato la kill a me Mannaia mannaia Ok Ok Pasqualiti ma tu non muori fra Sono hack No ragazzi Pasqualino non muore Io ho sparato tre ore col pompa Col cecco anzi Sì da me fermo Ah è pazzesco ragazzi No è pazzesco Tanto dobbiamo farci un altro round Ah vabbè Ah non è finito? Ah ok E a me manca l'ultima kill Ma non la falla Dai dai falla Falla dai 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 falla La falla la falla Eh L'ha fatta l'ha fatta L'ha fatta Va bene Va bene Siamo arrivati a 22 Non male Non male Non male Non male Riproduci nuovamente Ok Questa è andata Non so come è possibile Forse avevo poca vita Non ci ho fatto caso Ma va bene Eh vabbè Eh vabbè ragazzi C'è No 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 È difficile Quando sanno Quando hai l'unica skin No non sei l'unica C'ho pure io Bello così mi piace Cazzarola Così mi piace Vai Eh fra Uno con lanciagranate Come che mira Ragazzi C'ho una mira di merda Oddio Sparando Vabbè Mi montiamo le mani Va No Forza 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 Oh le armi automatiche Regà Sembra che non sparano Eh vabbè Portanto era fare la kill Con Bella sta stillata Bella sta stillata Bella Davanti e dietro Big sandwich No in prima persona È impossibile fra eh È difficilissimo Troppo bello Vederti schiatta Pasquali Ok Ok Io ora i ragazzi che si fanno uccidere li amo Ma come ragazzi si fanno scherzo No 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 scherzo scherzo Era per dire Era per dire che sono scarsi e loro si fanno uccidere Eh dai guarda qua Dai però che po' Raga ma lasciatemi uccidere lì Noi in pace vi prego Ok stillate Stillato Eccolo qua Sì ciao mo Sì ciao Oh si sono incontrati Hanno visto che c'evo quella skin Boom tutti quanti mi focus su di me Quante me ne stillate di kill Quante Su me pure un sacco di fortuna Non cominciare Eccolo qua Sti 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 stiller kree stiller kree killer Non mi usciva la parola No no fermi 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 così Dai dai però Che ballere Oddio ho fatto una rimonta Ho fatto una rimonta Canteo palma Eh fra non ce la faccio io con sta ballestraccia Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ringraziare tutti i ragazzuoli Che hanno contribuito al fatto che Questo video non venisse cancellato Perché si sono fatti uccidere per farmi vincere Grazie raga E voi direte tu ma sei contento perché ti hanno fatto vincere? Sì raga perché per me questa cosa Vale più di ogni altra cosa Perché nella vita raga L'importante non è mai partecipare L'importante è sempre E sarà sempre vincere Il come non è importante L'importante è aver battuto lino In primis In primis E in secundis aver vinto E ringrazio tutti i ragazzi Che in questo momento sono in live E guarderanno questo video Ciao ragazzi